Hai parlato bene o no? Bellissimo! Ah, il tridur! E non mi fa meglio! Il tridur! Eh, non, mi fa meglio! Il tridur! Il tridur! Il tridur! ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetti, per piacere. Ecco, si confonde a me. E' l'uomo che porta. 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 che era il signor, che cosi non mi rompi più le palle quando mi vedi hai baciato il coscritto ti ho visto il coscritto è un po' di più Perché questo succede a cavallo, ma il suo è basso. Ecco qui, è la più basso. Ma lei e la sposa, guardi, ha un basso che fa... La tengo su. Lascia stare. Eh, sì. Sono momenti difficili. Pagani, c'è un po' puro. Pagano tutto il Pt e il Pt. Ma è il Pt, c'è un po' puro. Mi prendo paura, me no... Si può. Si riesce un po' più. E va bene. Lei prese. Ma metta qui sotto foto e giro. Eh, sì. Dopo ti faccio vedere una foto. Sì. Oh, è cammino spost, eh. E andrà già facendo per suo. Pagano, sei che... Eh, è legato qua quindi. Non ci facciamo niente. Ma, caro, sei che... No, a ventina! Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo in giro! La mia vita! Ragazzi... Avanti! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.